Il caso Rasman innanzitutto è una tragedia, lo è per la famiglia, per la città, ma anche per i pilleziotti e le loro famiglie. Un fatto non è voluto né è ricercato, così sostengono anche i diversi gradi di giudizio, codificando il fatto come colposo. Fatti come questo necessitano certamente un neco esarcimento da parte dello Stato, senza che ciò debba gravare sui suoi servitori. Incredibilmente non esistono infatti coperture assicurative che tutelino gli operatori di polizia in simili tragedie. In varie professioni purtroppo c'è il rischio che qualcosa non possa andare per il verso giusto. Basti pensare nel campo medico, alla guida di mezzi pubblici o anche altri servizi di soccorso, come già ribadito, poi per casi simili a quello testino non è né giusto né possibile fare scendere da un atto involontario la perdita del posto di lavoro i poliziotti coinvolti sono ancora in servizio proprio perché le lunghe e puntuali indagini della magistratura hanno acclarato che quanto avvenuto altro non è che un evento drammatico ma fortuito. Servizi come quello delle Iene, mandati in onda l'altra sera, finiscono solo per alimentare un ingiustificato odio nei confronti delle forze dell'ordine che come in quel caso intervengono su richiesta di cittadini preoccupati e impauriti, fatto sa e questo lo aggiungiamo noi, che poi dopo dicevano beh ma insomma si poteva anche essere più tranquilli, non è un ragazzo agitato. Insomma una volta che c'è la polizia si può anche cambiare idea. Le dichiarazioni del servizio del medico sono alquanto sbalorditive e ritorniamo al comunicato del SAP Giacchè accusa gli operatori di polizia di non saper trattare pazienti affetti da disturbi mentali. Nessuno ce li insegna tra l'altro, ha ribadito Tamaro, quando poi sono proprio loro a chiedere frequentemente l'intervento della polizia per contenere questi ammalati a cui debbano somministare i necessari medicinali. Un paradosso vero e proprio, peraltro sono numerose gli interventi del SAP presso il questore circa le perplessità che tale incompenza debba essere svolta dai poliziotti. Purtroppo anche il servizio delle Iene è sembrato uno dei tanti tentativi da parte delle partite antipolizia per criticare l'operato dei poliziotti e gettare ulteriore scherito sulle divise piuttosto che cercare dei colpevoli da ammantizzare si cerchi di indenizzare in maniera giusta le vittime di questa tragedia senza creare altre e nel caso le parti dovessero essere inadvertite si applichi lo stesso valore di vita.